E caccia i voti dispersi a Chieti. Nel capoluogo teatino si corre verso il ballottaggio che si terrà il 4 e 5 di ottobre e ora si analizzano i numeri delle elezioni in vista di possibili alleanze e strategie. I due a contendersi la poltrona di sindaco sono Fabrizio Di Stefano che parte da un solido 38,81% e Diego Ferrara con il 21,5%. La differenza nell'ultima tornata elettorale l'ha fatta il voto disgiunto, ovvero la possibilità di scegliere un candidato sindaco e una lista di schieramenti opposti. Di Stefano è l'unico tra i candidati ad aver ricevuto meno voti della propria coalizione con una differenza di 1.222 schede. Situazione opposta nel centro-sinistra dove gli elettori hanno premiato Ferrara piuttosto che la coalizione. Il candidato sindaco infatti ha ricevuto 1.586 voti in più della somma di quelli delle sue liste, tra cui si registra il flop del Partito Democratico che si è fermato al 6,16% delle preferenze. Ed è proprio il voto disgiunto ad aver garantito il ballottaggio a Ferrara. Seppur infatti Bruno Di Iorio, che con la 20,34% conquistato il terzo posto, abbia ricevuto 387 voti in più rispetto alla sua coalizione, è stato superato da Ferrara per soli 335 voti. In totale la coalizione di Di Iorio ha ricevuto 5.461 voti, 4.597 quella di Ferrara, per una differenza di 864 preferenze a discapito del centro-sinistra. Nonostante ciò è Ferrara ad averla spuntata, con un successo che gli appartiene completamente e che ora può affermare che il centro-sinistra ha puntato sul cavallo giusto. Lo stesso non si può dire di Di Stefano, visto che molti degli elettori di centro-destra sulla scheda hanno indicato un altro candidato sindaco. Se nel centro-sinistra Ferrara ha trascinato la squadra, nel centro-destra è accaduto il contrario. I primi tre partiti per numero di preferenze infatti appartengono tutti alla coalizione di Di Stefano. Prima è la Lega, col 16,96% delle preferenze, a seguire Fratelli d'Italia, col 13,81%, terza l'UDC, con l'8,85%. A seguire c'è la lista di Forza Chieti, a sostegno di Di Iorio, che ha conquistato il 7,82% delle preferenze. Il risultato fa gongolare l'assessore Mauro Febbo, che nonostante l'obiettivo mancato del ballottaggio, afferma il centro-destra senza Forza Italia non vince. E il sorprendente risultato dei forzisti fa cambiare idea alla Lega. Mentre nelle settimane scorse il coordinatore regionale del carroccio Luigi Deramo aveva più volte accusato Forza Italia di tradimento e chiesto l'estromissione di Febbo dalla giunta regionale, adesso lo stesso Deramo prova a seppellire l'ascia di guerra. Tornate a casa, ha detto il leghista ai forzisti, e corriamo uniti al ballottaggio. E queste parole non possono che imbarazzare di Stefano, l'unico tra i candidati ad aver dichiarato che non avrebbe mai fatto alleanze dopo il primo turno. Ma il tentennamento della Lega è dovuto pure ai risultati di Avezzano, dove anche qui il centro-destra diviso non è riuscito a sbancare. Ma torniamo ai numeri. Tra i candidati delle varie liste, il più votato è l'assessore uscente Mario Colantonio della Lega, con 669 preferenze. A seguire il presidente del Consiglio Comunale, il leghista Liberato Aceto, con 552 voti, e il terzo il vice sindaco Giuseppe Giampietro, di Fratelli d'Italia, con 505 voti. Subito dopo arriva Manuel Pantalone, della lista Chiama Chieti, a sostegno di Paolo De Cesare, che con 442 preferenze è il primo tra coloro che non hanno alcun partito alle spalle. E dalle stelle alle stalle parliamo ora di chi ha deluso in queste elezioni. Oltre al già citato PD, sicuramente il Movimento 5 Stelle ad avere la mano in bocca. Amicone infatti è l'ultimo tra i candidati sindaco e la lista pentastellata si ferma a un misero 6,74%. Ed ecco che il consigliere grillino uscente Ottavio Argenio si sfoga. È stato calpestato il lavoro svolto finora, ha scritto Argenio sul suo profilo Facebook. L'unico intento era quello di fare leggere almeno un consigliere comunale per far sì che fungesse da mero tramite tra gli elettori e qualche parlamentare. E ora, conclude Argenio, ognuno si trova dove merita di essere. La lista più deludente però è quella del popolo della famiglia, a sostegno di Di Stefano. Su 30 candidati dai super cattolici, infatti, ben 17 hanno ricevuto zero preferenze, il che significa che i candidati in questione non sono riusciti a convincere nemmeno se stessi.